Ciao ragazzi, siamo già al 24 di dicembre e domani è Natale, quindi non credo ci rivedremo più prima di domani e allora volevo augurarvi un buonissimo e felicissimo Natale, so che sembrerà banale perché tutte quante abbiamo fatto un video del genere in cui diciamo i nostri auguri, però veramente un auguro è sentito da parte mia, da parte della mia famiglia, a tutti voi che mi seguite, alle vostre famiglie, agli amici, alle persone con cui comunque passerete questa splendida giornata che secondo me deve essere una giornata serena, ecco l'avranno detto un milione di persone ma secondo me il Natale è serenità e fan. Scusate se la qualità di questo video magari farà un po' schifo ma sto registrando dalla webcam nel computer, quindi niente, vi auguro ancora un felice Natale e al prossimo video. Ecco ragazze, volevo registrare anche una parte di video per coloro che passeranno il Natale non in maniera così felice, perché purtroppo esistono anche quelle persone, spero che questa faccia a palla vi faccia almeno un po' sorridere, spero comunque sia, siate tranquille, felici e cerchiate almeno di dimenticarvi i problemi per questa giornata. quindi niente, auguri a tutti! AUGUURI! oddio guarda i denti! aah! aah! oddio! oh no! aah! 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 mia. E niente, ci vediamo. Auguri ragazze. Ragazzi vi giuro è l'ultima, non ne ho più sul computer, l'ho stempiato e l'ultimo augurio che non riesco a farvi. Auguri ragazze. Grazie a tutti.